Buonasera a Manico Garota, ritira il premio il direttore artistico del festival Enzo Camporeale che però vedo dialoga con gli altri componenti dell'associazione Museo Congè. Come sono state queste quattro serate? Vada veramente molto interessante anche perché c'è stato sempre tanto pubblico ed è insomma insolito per i cortometraggi e come dicevo anche ieri io non conoscevo questo festival, sono veramente felice di aver partecipato e di essere stato coinvolto e insomma lo sosterrò in futuro perché insomma amo la mia terra e amo tutte le iniziative che hanno un così alto contenuto di qualità e vanno veramente sostenute e combattute, insomma realizzate veramente con tutto l'impegno possibile.